Compra Aquilano è un progetto innovativo presentato a Palazzo Fibioni dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente del CDA Abrex, Angelo Dottavio. C'era anche il direttore generale Sara Cichelli. Si tratta in sostanza della prima moneta comunale d'Italia. Non è una moneta stampata ovviamente, ma uno strumento di pagamento complementare, senza costi, senza interessi, a misura di impresa e di cittadino. L'opportunità di Compra Aquilano è per acquisti e vendite tra aziende, professionisti, artigiani e commercianti, ma anche per acquisti privati e personali da parte di dipendenti, amministratori di aziende, collaboratori e dirigenti. I cittadini, privatamente, potranno cominciare ad acquistare dal 2020. Un'azienda può accedere al credito attraverso Compra Aquilano e quindi magari utilizzare qualche migliaio di euro di credito, comprare qualcosa all'Aquila e non fuori dall'Aquila o comunque in Abruzzo e poi trovare i clienti che andranno nel suo negozio, nella sua attività ad acquistare e rientrare di quel debito. Per il cliente il vantaggio è quello di avere subito liquidità. Per le imprese potrà essere anche un'opportunità di ripresa per quelle che sono state costrette a cessare la loro attività. Questo è un po' il senso, Abrax in sostanza è un mercato aggiuntivo che si aggiunge al tradizionale mercato in euro. Si possono fare acquisti ripagando con beni e servizi. All'Aquila ci sono già degli iscritti e il 23 maggio a Palazzo Fibioni ci sarà un seminario aperto alle imprese per presentare il circuito Abrax, che conta già mille aziende iscritte. È il primo capoluogo di regione l'Aquila a sperimentare questo circuito, in realtà in Italia ce ne sono 13. Le aziende per entrare sono sottoposte ad analisi. C'è un costo d'ingresso in base al fatturato dell'impresa, ma aprire il conto corrente non ha costi e il contratto è di un anno. L'idea è di un circuito complementare ma locale per mantenere l'economia cittadina all'interno della città stessa. Ovviamente si tratta di una sperimentazione senza nessun costo per il comune dell'Aquila. Speriamo che questa della moneta complementare, che è uno strumento già in vigore da molte parti, possa aiutare il commercio aquilano e le famiglie aquilane a contrastare alla crisi globale e alla globalizzazione degli acquisti attraverso un circuito cittadino e comunitario.